Perde di vista il pallone e perde il possesso, Usanci, Chiricò, lancio per Iemmello, che ne è di rigore solo Iemmello! Pietro Iemmello, 28esimo minuto della ripresa! 18 volte Pietro Iemmello, 2-0 per il Foggia! Scatta sul filo del fuorigioco, guarda l'angolino passo e in pallina Liverani! E ipoteca una vittoria che sarebbe importantissima per il Foggia!